Un glossario dossier perché chi si occupa del trattamento dei dati e delle notizie sui minori possa contare su una guida e un utile strumento rispettando il diritto alla riservatezza di chi ancora non ha raggiunto l'età adulta. E' nato con questo intento il glossier su minori e informazione, promosso dal Consiglio regionale del Piemonte attraverso la sua consulta giovani e redatto a più mani e con il contributo di esperti di più settori da tutti in Rete, tavolo a cui aderiscono enti e organizzazioni piemontesi attivi nel settore dei diritti dei minori. Il tavolo è significativo proprio per questo perché tanti componenti dalla magistratura al giornalismo ai servizi sociali eccetera eccetera ritengono che si debba e si possa anche fare di più proprio per separare una situazione che non può essere tutelata solo a livello di documenti. Bisogna che le prassi virtuose di cui spesso si parla dovrebbero essere sempre più applicate, sempre più ricorrenti, sempre più diffuse nella coscienza sociale. Nella guida vengono riportati e analizzati 50 termini riguardanti la sfera della tutela giovanile, dalla adottabilità al volontariato, passando per cyberbullismo, minori stranieri, processo. Il manuale contiene poi un quadro sintetico della legislazione italiana internazionale in materia, i codici deontologici delle professioni interessate e una raccolta di proposte didattiche su tematiche giuridiche, sociali e dei media. Le linee guida, che sono poi parte della carta di valori di Tutti in Rete, sono diciamo diverse, qua è impossibile sintetizzarle tutte. Non pensare, parlando in questa materia, di essere portavoci dei minori, perché essere portavoce di minori, persone di minorità, di tanti bisogni, in realtà è uno sforzo collettivo che non può essere affidato a una singola professionalità. La presentazione del Glossier è stata anche occasione per sottoscrivere il nuovo protocollo d'intesa per l'attuazione della carta dei valori elaborata da Tutti in Rete. Il documento, firmato tra gli altri dalla Regione e dal Consiglio regionale del Piemonte, insieme al Corecom e agli ordini professionali, degli avvocati, dei medici, degli psicologi e dei giornalisti, mira ad assicurare la protezione delle persone di minorità nelle varie fasi della crescita, garantendo loro un armonico sviluppo psicofisico e morale.